Piu, 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 piu Raga, laser a sto coso, ne siete accorti? Nuova stagione ragazzi e di conseguenza nuova random skin challenge Come sapete ho shoppato l'intero pass battaglia fino al livello 100, le abbiamo già sbloccate tutte E di conseguenza avendo già tutte le skin ho deciso di fare immediatamente la random skin challenge con queste 4 skin Si, ci sono anche le altre 3, c'è Cor, ci sta Thorin, ci sta Shimpansky Però abbiamo scelto queste qui Se vorreste poi un'altra random skin challenge lasciando un bel mi piace arriviamo almeno a 5000 like Cosa dobbiamo fare a seconda di quale skin ci capita? Molto semplice ragazzi, con Carnage me ne dovrò andare direttamente nella zona degli zombie Quindi dovrò entrare proprio nella nube, nella bolla degli zombie dove sponano tutti gli zombie appunto Con Carton posso utilizzare unicamente le armi che pesco, mentre per quanto riguarda le cure posso fare un po' quello che voglio Con Carlotta, per gli amici Carlotta, ad ogni chile devo scambiare tutte le mie armi con quelle dell'avversario che ho ucciso Tranne le cure, con quelle posso sempre fare quello che voglio E poi se dopo aver scambiato tutte le armi, dopo un po' di tempo ne trovo altre che voglio utilizzare, posso comunque prenderle E poi con Fabio Folta Chioma ragazzi, guardate quanto è bello Non posso utilizzare due armi della stessa rarità, quindi tutte le armi devono avere una rarità diversa Tranne sempre le cure, loro sono tirate fuori da questa challenge Ma prima di iniziare con il video come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite Mi raccomando controllate sempre che in basso a destra ci sia scritto supporto a un creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie davvero di cuore a chi lo farà, soprattutto in questo periodo se state shoppando il pass battaglia o altre cose Ma anche se non shoppate fa sempre supporto, mi raccomando non vi dimenticate di controllare, di avere il supporto a un creatore GGYT Tutto grande, tutto attaccato Detto questo ragazzi, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non è stato fatto Quindi controllate di essere iscritti se non lo siete, iscrivetevi Vi ricordo anche che stiamo andando in live tutti i giorni sul sito Viola Trovate il link in descrizione, venitemi a lasciare un bel follow Detto questo, selezioniamo la skin casuale, facciamo salva i dashi, attenzione Carnage Che qui sembra un po' Venom, un po' bagatino Sembra un Venom secco Andiamo a mettere pronto, dobbiamo andare ragazzi dritti 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 dagli zombie E la bolla degli zombie si trova proprio a corso commercio Quindi ce ne dobbiamo andare dritti dritti là dentro Quindi devo un po' allutare, devo trovare roba Dopodiché poi posso uscire e fare un po' quel che voglio insomma Infatti la parte difficile della partita con Carnage è proprio lo start Ragazzi un po' di gente ce sta venendo nella zona degli zombie Guardate un po', pure questi ce stanno a buttare Attenzione Io pensavo, non voglio dire che non ci veniva proprio nessuno Però non mi aspettavo così tanta gente Qui ricordiamoci che non possiamo buildare Ricordiamoci ragazzi che non possiamo buildare in questa zona Quindi dobbiamo stare attenti Ok, si è rincastrato quello mi sa Io nel dubbio la kill me la prendo Nel dubbio la kill me la prendo Questo qui sta cercando di spaccare il muro Ci è riuscito, stiamo attenti che ci è riuscito Oddio, 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 oddio Anche perché vorrei lutare qualcosina Dato che siamo qui vorrei provare a prendermi un po' di armi Qui degli zombie ragazzi Tra l'altro qui hanno già aperto la chest Quindi dobbiamo stare attenti Ma l'avevamo visti e c'erano un bel po' di personcine Uuuuh Allora l'assalto Oh mio dio Oh mio dio Allora vorrei trovare un pompa in realtà io Lo scar? Ma troppo buoni, troppo buoni Troppo, troppo buoni ragazzi Con lo scar così mi lusingate proprio Ma dov'è quest'altro? L'hanno ucciso per caso? No passi, c'ha passi qua Non posso buildare Qui mi sto No la minican, la minican, la minican Mamma mia Mamma mia regà la minican devastante La minican devastante Verde tra l'altro Ce l'aveva verde qua il signorino Allora facciamo una cosa Va saliamo sui tetti Ma io prima ho sentito che stava sparando Qualcuno stava sparando con un pompa ragazzi Qualcuno stava sparando con un pompa Quindi dobbiamo stare attenti O meglio dobbiamo stare concentrati a trovarlo sto pompa Perché se no qua non lo troviamo Ed è un problema No altri passi Non è che è quello che sta usando il pompa? Regà è scappato? Dove è andato? Sì è quello lì c'ha il pompa No 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 Gli zombie Lol Lol raga Lol lol Allora facciamo così E così regà mi tolgo No Ragazzi mi lascia Scusate No questo qua è quello velenoso Mi lasciate un attimino in pace Non ho fatto quello che volevo fare Mi voglio riprendere la minican Ok Lasciamo lo scale regà Dai giochiamo un po' con le armi degli zombie Se no qui che challenge è? Però ragazzi a sto punto uscirei eh Mi son preso tutto Più che altro perché mi devo curare Poi magari rientriamo per farci un po' di Di shield Oddio mi ha fatto prendere un colpo Pensavo stesse uscendo Allora io direi che possiamo un attimino rientrare Per farci un po' di shield Che poi questi qua ragà Quando li uccidete Vi da lo shield Non è male raga eh Non è male Poi soprattutto mi faccio questa roba qui Per potermi potenziare le armi appunto Queste qui degli zombie Mo mi verrà da chiamarle degli alieni eh Mi verrà da chiamare un sacco degli alieni Quale le armi Perché ormai sono abituato con gli alieni Però no Stiamo parlando ovviamente di zombie Questa tra l'altro me la posso fare leggendare ragazzi Quindi direi di uscire un attimo E vediamo quante ne abbiamo Qui possiamo fare escire Cioè usciamo entriamo usciamo entriamo Un po' come vogliamo Ci facciamo questa leggendaria Nel dubbio E questo qui intanto Lo portiamo a blu Poi se riusciamo ragazzi Lo facciamo anche epico Più che altro è che così Facciamo anche un bel po' di shield O no qualcun altro sta sparando Mi sa ragazzi Stanno sparando a qualcun altro Mamma mia quante munizioni ci siamo fatti È molto utile qui con gli zombie eh Molto utile Allora andiamo zitti zitti Lol L'abbiamo ucciso regà Lui mi sa che c'è la minica leggendaria No non è Oddio No mi sa che è questo Mi sa che è questo regà No regà Stiamo attenti Stiamo attenti regà Perché qua Madonna Sì però mostana diventa un po' troppi eh Mostana diventa un pochino troppi Allora Non ho capito Quello lì era il fucile Eh D'assalto Quello là Se non sbaglio Sì È il fucile d'assalto Però io mi volevo fare di nuovo Lo shield raga Oh c'è quello No regà Questo è quello dorato Ecco perché non va giù Ecco perché non andava giù Questo qui regà Oh mio dio No aspettate un attimo Aspettate Quello lì è pericoloso Quello lì è pericolosissimo ragazzi Quello dorato Mannaggia la miseria Di Di zombie Sono morti tutti Ah perché quando toccano qui la barriera Muoiono praticamente Perché Qua ho visto lo shield Ma la gente viene proprio qui a lutare eh Ma regà ma non è male eh Cioè dovete stare attenti Perché se poi rimanete chiusi E non avete armi Siete fregati Però le munizioni le fate Anche abbastanza facilmente Non è difficile fare Ecco lì un avversario Mamma mia 21 21 21 21 26 No Let's go Regà questo qua è diventato Cioè è la mia zona Questa è la mia zona ragazzi Via 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 amichetti Loro sono i miei amichetti E io No No Siamo amichetti Ricordatevi che siamo amichetti Non mi attaccate Siamo Best friend forever Non ci dimentichiamo eh Via 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 Vai mi faccio tutta la partita qui Mi faccio tutta la partita qui Vai mi sono rifullato Quindi ce ne possiamo andare No regà Troppo divertente Mi sto a divertir troppo Vai facciamo anche questa qui Ah le possiamo fare pure mitiche Le possiamo fare anche mitiche Ragà Ma di che state parlando Ma non ci credo Come le possiamo fare anche mitiche LOL Però quanti ne servono Cioè boni tutti Quanti ne servono per farli 50 ragà 50 sono un botto Il problema mio ragazzi In questo momento è il pump Cioè vorrei trovare un pump migliore Quello assolutamente sì Il pump migliore me lo vorrei fare Poi tra l'altro Qui ragà In questa zona Il primo che attacca l'avversario Di solito vince Perché? Perché non puoi buildare Quindi nel momento in cui la gente ti spara E tu stai subendo E non puoi buildare per curarti O fare qualcosa E lì ti attacchi Ragà Ti attacchi proprio Ed è complicato eh Oddio lo posso far volare Ragà me lo faccio Tanto l'oro che me lo tenga a fare Ti ho ottenuto anche 5 stelle Livello 105 Let's go Praticamente ragazzi Io in questa partita Non ho ancora buildato Una costruzione Ma sto già a 5 kill Cioè quanto fa ridere sta cosa? Cioè no regà fa troppo ride sta cosa Fa veramente troppo troppo ridere Allora io adesso poi sono stato fortunato Perché ho fatto anche un po' di materiali Lutando gli avversari Però un punto debole diciamo Di quella zona lì È che non puoi farmare materiali Sostanzialmente Cioè li puoi farmare Però gli zombie Non ti lasciano tanto tempo Per star lì A farlo Il materiale Però Gli uccidi ti danno shield Ti danno le munizioni Quindi non è che rimani proprio a piedi E non è male Perché poi le armi sono anche forti Il fucile viceversa È molto interessante La minigun Regà Che ve lo sto a dire a fare No regà Sono sotto tiro Taglia avviata Rip No ragazzi Questo mi viene a push A parte siamo già in 14 Regà Siamo già in 14 Lol E si sta anche alzando la minaccia Quindi questo qui mi sta venendo A pushare Ha confermato Ok Si è rialzata Mi sa che è quello con la macchina Regà Dove sta andando Mi sa che non ha capito dove sto Sta tornando indietro Sì mi sta provando a pushare ragazzi No Se n'è andato di là Dunque La minaccia se n'è andata proprio Quando lui si è allontanato Quindi penso sia ufficialmente lui Il mio Avversario Perché sono la sua taglia Però non ho capito Se ha lasciato stare la ricerca Nei miei confronti Oppure Semplicemente Non ha capito E quindi Se è perso Ecco Ma si è rialzata però eh Mi sa che Si è spostato tipo per di qua Oh mio dio Che è quello di cui mi segnano i passi qua sopra Sì regà Mi sa che è lui Ah perché è diventata un'ombra Era diventata un'ombra Regà Ci ha lanciarazzi Regà L'hanno ucciso Di brutto proprio L'hanno Devastato ragazzi Pazzo è nemmeno una hit Molto imprecisa sta minican A differenza di quella storica eh Questo però me lo luto io Grazie Riprendiamo l'altezza un po' così No regà Nell'uno contro uno Fa schifo questa Nell'uno contro uno Non è il massimo Sto fucile assalto regà Nell'uno contro uno Così ravvicinato Potrebbe non essere Il massimo ragazzi Ve la sconsiglio Mettiamo così Diciamo che ve la sconsiglio Ok siamo rimasti in sei adesso ragazzi Siamo rimasti in sei Ok c'è uno lì regà Vediamo dove sta andando Lo vedo Aggressivo No No mi ha visto regà Ma è andato Regà Non capivo Io No No regà Mi volevo fare lo shieldone Ma non faccio in tempo Questo è bello aggressivo Non sto capendo Dove mi sta sparando Da sotto Ok Ok Mamma mia regà Non capivo da dove mi stava sparando Me la so vista brutta A un certo punto Ma Mo dove era lo shield di que Ok qua Ok Facciamoci lo shieldone Siamo rimasti in tre regà eh Siamo rimasti in tre Attenzione perché Siamo rimasti in tre Non ho trovato nessuno Con lo spas Purtroppo Per migliorare il pump Tutte e due C'hanno pochissimi materiali Prima di ento Quelli che c'avevo ancora da prima Quindi i ripperotti Lì giù c'è un airdrop Ah ma c'è uno qui eh Sì che c'è uno qui Ah eh Mi ha fatto un po' male Oh mio dio Madonna regà Che danni Sentili sentili Ma da dove Dove sta l'altro Non ho capito Dove era il terzo incomodo Allora Jump bassa Ce ne andiamo qui in safe Eccolo C'è da lì giù Eh quello da lì giù Mamma mia quanti danni Mi ha fatto Ma Oddio La vedo Nera Oh non dico Che ho finito i materiali Ma Stanno iniziando A scarseggiare No l'altro sta pushando Eh questo ce l'ha lo spasso Questo lo spasso ce l'ha E l'ho sentito eh L'ho sentito particolarmente bene Posso confermare Ho finito gli sciglini ragazzini Tipo non mi posso più curare lo shield Ma mi ha messo anzi a culo da sopra Regà Se no con questo In build fight Me la stavo cavando No fra Filate Non è la scelta giusta Da fare Pusharmi Eh vabbè Noi Riutilizziamo la tecnica Della Jump bassa E ce ne riandiamo Oddio regà Sta foschia però Che fastidio Ragazzi Oh Ma neanche lo vedevo Ok Ma Ma quello quindi è rimasto su Ok 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 Regà laser a sto coso Ne siete accorti Sto coso lasera Let's go Ce la siamo anche portata a casa Regà Non riuscivo a vincere la partita In sta season Vi dico solo che erano Sono Quasi 4-5 ore che giocavo Per fare anche altri video Anche altre cose E non riuscivo A vincere L'abbiamo vinta Ma Regà Troppo forte Quell'arma Da vicino È difficile Da vicino È molto difficile Però ragazzi Devastante Cioè Devastante Ragazzi Ma veramente Devastante Quanti kill abbiamo fatto 10 10 kill Ragazzi E ci siamo andati anche a sbloccare l'ombrellino E io che ero qui 20 anni che stavo cercando di fare il video della vittoria reale Poi mi sono arreso E mi sono messo a fare la random Let's go Andiamo ovviamente anche ad equipaggiare L'ombrellino che è molto carino No regà Sarebbe capitato Fabio subito dopo Mi raccomando Lasciate un bel mi piace per un'altra random skin challenge La dobbiamo andare a fare per Fabio Vi ricordo codice creatore GGYT Tutto grande È tutto attaccato nel negozio oggetti di Fortnite Per supportarmi È fondamentale ragazzi Davvero importantissimo Lasciate appunto un bel mi piace Iscrivetevi al canale Se ancora non è stato fatto Controvate di essere iscritti Se non lo siete iscrivetevi Ovviamente vi ricordo che in descrizione Trovate per venirmi a seguire Su Twitch Il link Perché tutti i giorni Stiamo streamando Veramente tante 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 ore Per me è tutto Noi appunto ci troviamo O dopo in streaming Se passate O domani con un prossimo video qui sul mio canale Anzi mi sa che nel pomeriggio Tardo uscirà un altro video Preparatevi perché Sti giorni usciranno un sacco di video Ciao Ciao